Opere, come il documentario su Lidia Masimovic, ci mostrano la capacità del cinema e delle arti di scuotere le coscienze grazie a narrazioni che non fanno sconti alla verità. Oggi la bambina che non sapeva odiare lascia come eredità l'opportunità di parlare a tutti voi, cari giovani. Lidia Masimovic è una donna che alle lacerazioni di un'infanzia negata ha contrapposto la logica del dialogo e dell'amore. In tutti questi anni ha continuato a ripetere, se dovessi vivere pensando ad odio e vendetta farei un danno a me stessa e alla mia anima e sarei io quella malata, l'odio ucciderebbe anche me. Voi giovani non avete conosciuto la Shoah, ma avete il privilegio di vivere attraverso il racconto lo straordinario cammino di umanità che tanti testimoni di pace ci hanno affidato. Avete una grande responsabilità, trasformare in storia con la S maiuscola il cammino personale delle grandi donne della memoria, donne come Lidia Masimovic e come Liliana Segre che non hanno potuto essere bambine o adolescenti, ma che continuano a lottare per donarvi un momento capace di accogliervi semplicemente per quello che siete. Ed allora entrerete nel documentario guardando con gli occhi di quella bambina piccola, strappata dalle braccia della famiglia per essere affidata all'angelo della morte. Quella bambina che per anni, per decenni, non cede al senso di vergogna, non si arrende, non si abbatte e continua a credere che la sua mamma sia viva. Quella bambina, ormai adulta, che nell'abbraccio con la madre ritrovata dopo vent'anni ha il segno tangibile della speranza possibile. Sono certa che questo racconto saprà darvi il coraggio e la forza di non arrendervi mai al linguaggio della violenza e di continuare a battervi perché sulla vita di Lidia non scenda mai il silenzio o peggio l'indifferenza perché la vostra voglia di pace sia il vostro futuro.